È stato trovato di tutto e di più. Lotterie clandestine, detenzione illegale di armi e decine di soggetti identificati, molti dei quali già noti alle forze dell'ordine. Ed è solo una parte dell'attività della Guardia di Finanza di Torino che negli ultimi mesi ha controllato sale giochi e bartabaccai sparsi un po' in tutta la provincia torinese. Nel corso degli interventi i finanzieri si sono trovati di fronte anche a svariati, a volte pittoreschi stratagemmi per occultare le slot illegali e depistare così i controlli. Come il caso del titolare di un bar che spegneva e accendeva gli apparecchi con una sorta di telecomando a distanza così da farli sembrare inattivi in caso di necessità. O ancora quando il gestore di un locale, un giovane di origini cinesi, aveva cautelato le slot all'interno di una stanza attigua al locale dotata di una porta blindata così da permettere l'ingresso solamente ai clienti selezionati. Geniale anche l'idea di un gestore della provincia che nascondeva la macchinetta abusiva all'interno di un'anonima valigetta 24 ore. Tra gli interventi il sequestro di una sala giochi all'interno di un cinema della zona nord della città, frequentatissima tra l'altro da giovanissimi ma totalmente illegale perché priva di licenze e autorizzazioni. E ancora un bar di Viarese Romoli gestito da un pregiudicato dove i baschi verdi, oltre ad una decina di apparecchiature abusive, hanno rinvenuto armi da fuoco illegali, orologi di pregio di dubbia provenienza, droga, allaccia abusivi alla rete condominiale, nonché lotterie a premi clandestine. E ammontano ad oltre un milione di euro le sanzioni inflitte per un'evasione fiscale di oltre 4 milioni.